A Sciacca la raccolta differenziata multimateriale porta a porta dal 18 settembre prevede delle modifiche. Nelle giornate di mercoledì e sabato bar, pub, ristoranti, strutture ricettive, oltre all'umido dovranno esporre anche la frazione in vetro. Per carta, cartone, plastica e lattina e per le altre tipologie rimane in vigore il tradizionale ecocalendario. Ricordiamo inoltre a tutte le utenze che il giovedì nei mastelli vanno solo rifiuti non riciclabili, niente abbigliamento. Una buona raccolta differenziata aiuta l'ambiente. Il nostro futuro è quello dei nostri figli. Un saluto da Giuseppe Recca. Oggi è giovedì 19 settembre. L'erosione costiera anche in estate continua ad erodere le nostre coste e minacciare le infrastrutture viarie. Nei giorni scorsi è stata l'associazione Mare Amico a lanciare l'allarme sul pericolo che c'è ad Agrigento a San Leone. Una situazione complicata anche a Sciacca, in località San Giorgio, dove le mareggiate degli ultimi giorni hanno inghiottito ciò che restava dell'arenile. Residenti e villeggianti chiedono interventi urgenti. Ultimo giorno di lavoro per il presidente del Tribunale di Agrigento Pietro Maria Falcone. Il magistrato, che di recente ha compiuto 70 anni, va in pensione e lascia così il capoluogo dopo otto anni. Sono otto i magistrati che hanno presentato domanda per assumere il nuovo incarico. Tra questi c'è Alfonso Malato, attuale reggente del Palazzo di Giustizia, in sostituzione proprio di Falcone. Un soccorritore della Seus 118 è stato aggredito dai familiari di una paziente ad Avola, in provincia di Siracusa, colpito ripetutamente con calcio e pugna, riportato ferita al volto ed una alla spalla. Al termine di una visita al pronto soccorso gli è stata certificata una prognosi di sette giorni. L'associazione Sciacca Motori Vintage Club ha devoluto l'intero ricavato della serata svoltesi alcuni giorni fa e, trasmessa in diretta da Radio Torre Macauda, le due associazioni crescere insieme Onlus e Agape Onlus, che a Sciacca si occupano di disabilità e di inclusione. L'importo di 1.250 euro è stato suddiviso in parti uguali ai due sodalizi. Ieri sera il municipio, la cerimonia, la presenza delle autorità locali. Il comune di Sciacca ha sottoscritto il protocollo d'intesa del Festival della Filosofia Magna Grecia-Sicilia Antica Peloponneso Grecia Nord. Il protocollo ha dato il via alla nascita di una rete internazionale di 20 scuole italiane e greche che svilupperà un percorso formativo coinvolgendo enti e istituzioni. A novembre è prevista una grande manifestazione di tutte le scuole a Sciacca. Domani, venerdì 20 settembre, si terranno alle ore 11.30 presso la Cattedrale di Palermo e funerale di Totoschillaci, spentosi ieri all'età di 59 anni dopo una lunga malattia. Il feretro del calciatore tanto amato dagli italiani si trova nella camera ardente dello stadio comunale Renzo Barbera di Palermo dove si potrà accedere anche nella giornata di oggi fino alle ore 22. Grazie per averci seguito, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.